Bentornati Readers, come state oggi? Per fortuna sono riuscita a fare un video a breve distanza dall'alto perché mi sto un po' perdendo tra tutti gli impegni familiari e lavorativi quindi spero di riuscire a ricominciare con questo ritmo e mettere tantissimi video, soprattutto di autori emergenti. Un nuovo autore di cui parleremo oggi è un autore di Bertone Editore che in realtà è la prima volta che riesco a fare un video di questa tipologia di libri, di questo editore e quindi sono molto molto contenta e ringrazio sia l'autore che la casa editrice. L'autore in questione, Michael Sozzi, ha scritto un libro veramente interessantissimo molto introspettivo, psicologico, ambientato in un ambiente ospedaliero che si chiama La complicanza e eccolo qui. Già da questa copertina che si vede molto caotica si capisce un pochino la sensazione, le emozioni, il temperamento e il carattere del protagonista. Il dottor Adrioli, un gastroenterologo che è molto... sta passando un periodo della sua vita molto molto difficile gli ultimi anni della sua vita molto difficili che lavora appunto in ospedale ma che ha avuto un grosso problema, diciamo così anche a livello giudiziario e da lì la sua vita è fortemente cambiata. Che succede? Inizia questo libro, La complicanza e quindi già questo titolo rappresentativo lo troveremo più volte scritto durante la stesura del libro, durante la narrazione e questo l'ho apprezzato moltissimo perché adoro quando il titolo viene ripetuto perché ti ricorda di che cosa stiamo parlando e ti illumina su tutta la narrazione quindi mi piace moltissimo questa cosa. La complicanza, qual è stata la complicanza? Che questo dottor Adrioli, un gastroenterologo molto importante ha avuto un problema all'interno dell'ospedale e un paziente è deceduto. Da qui la sua vita ha preso una strada molto difficile si è separato dalla moglie ha avuto grossi problemi naturalmente come dicevo giudiziari anche all'interno dell'ospedale quando è stato rintegrato ha delle limitazioni che non vi voglio più spolerare troppo anzi io ho già spolerato troppo che non vi voglio spolerare e quindi avrà un suo ufficetto alla parte più lontana, diciamo la parte più sperduta dell'ospedale ma inizia in un modo che fa già capire la personalità del protagonista tutto questo libro ovvero lui che guarda in lontananza semi nascosto Marco, un suo ex allievo quando lui insegnava quando ha fatto un insegnante ai futuri medici appunto che parla con un'altra collega ma che gli mette una tale agitazione una tale ansia perché sa che lui lo vedrà sotto un altro punto di vista non il professore da cui imparare ma il medico che ha avuto delle grosse difficoltà e i suoi attacchi d'ansia le sue dipendenze le sue difficoltà faranno uscire non soltanto il medico ma anche l'uomo che ci dirà il dottore quindi noi che siamo abituati a stereotipi di dottori bellissimi che salvano con una penna un paziente o che vanno in salvatore a 18 ore e ne escono tutti belli pettinati e patinati in realtà abbiamo la possibilità di vederli sotto un altro punto di vista e questa è una cosa meravigliosa ovvero l'uomo dirà il medico l'uomo con le sue difficoltà con le sue paure con le sue interiorità devo dire che Drioli quest'ansia riesce a trasmettertela come dicevo l'entra nell'ospedale ha un ruolo un pochino marginale ma la sua personalità anche se fragile è diventata comunque un qualcosa che dà fastidio agli altri e Marco questo ex allievo che viene messo nell'ufficio con lui vedrà la trasformazione in negativo che lui ha avuto e questo avrà delle ripercussioni proprio sul protagonista che succede però che questo protagonista ha una figlia meravigliosa che veramente i figli risalvano la vita e ti danno una visione di te stesso migliore e in un incidente che lui riesce un piccolo incidente che ha per andarla a prendere viene ricoverata in ospedale sua figlia si prenderà cura di lui accompagnata da una collega del reparto da un'infermiera che avrà subito una certa sintonia a questa ragazzina e che vedendo che la mamma è fuori perché anche lei è medico e che il papà è in ospedale cercherà di aiutarla in qualche modo questo aiuto alla ragazzina a sua figlia avvicinerà il protagonista a questa collega a questa sanitaria a questa dottoressa avrà bisogno di un medico un chirurgo sarà costretta tra virgolette a chiamare proprio Drioli anche se non potrebbe operare lui va lì in ospedale e non vi posso più dire nulla posso dirvi che la cosa che ho apprezzato moltissimo di Michael Sozzi è la capacità di interiorizzare i personaggi e di far vedere l'evoluzione che ha il protagonista che è lenta che è tesa che è ansiogena ma che è continuativa quindi il Drioli che ci troviamo all'inizio che spia da lontano Marco e gli mette anzi soltanto la sua presenza riuscirà a tirare fuori qualcosa certamente e probabilmente aiutato certamente probabilmente per amore della figlia ma anche per se stesso e vedere l'uomo che cambia che evolve in meglio e che ha la possibilità forse ha una seconda possibilità riuscirà a darci un messaggio bellissimo ovvero che c'è sempre un modo per rinascere e credo che questo sia veramente il messaggio che Michael Sassi voleva mandare oltre alla parte umana dei medici anche che c'è sempre una seconda possibilità e che in qualche modo si può risalire anche dai momenti più difficili non si deve tanto scavare ma si può anche riemergere quindi ringrazio tantissimo Michael per questo libro intenso che devo dire deve essere stato anche abbastanza difficile da descrivere perché anche se non si entra troppo profondamente nel campo medico comunque da una bella infarinata e ci fa capire l'attenzione e alla cura dei dettagli che ha messo questo autore ringrazio anche Bertone Editore per questo libro e spero di poter continuare a collaborare con lui e recensire altri libri e soprattutto di Michael vi ringrazio a voi tantissimo ringrazio a voi tantissimo per seguirmi sempre e spero di avervi un pochino interessato a questo libro di cui vi faccio rivedere la copertina eccola qui veramente bellissima e attenta e chiara e ci vediamo al prossimo video che spero sia sempre presto ringrazio ancora Michael per la sua gentilezza ciao a tutti